Accusato di estorsione nei confronti di un imprenditore è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 48 anni di Capurso. Nell'ordinanza di custodia cautelare viene anche ipotizzato il reato di tentato furto. I fatti sarebbero accaduti lo scorso luglio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe tentato un furto in un negozio nel centro di Capurso, appiccando il fuoco davanti alla saracinesca d'ingresso dell'attività, poi tagliandola in verticale con una sbarigliatrice per accedere all'interno del locale, tentativo fallito grazie all'intervento di una pattuglia dei carabinieri. Il ruogo fu poi spento con estintori da alcuni vicini. Secondo l'impostazione accusatoria, tutta da dimostrare, il 48enne arrestato avrebbe minacciato l'imprenditore allo scopo di ottenere denaro. Gli inquirenti si sono avvalsi delle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Bari hanno poi accertato che quel tentato furto sarebbe stato un gesto per costringere l'imprenditore a pagare il Pizzo. Infatti dopo pochi giorni l'indagato sarebbe andato nel negozio dicendo al titolare in dialetto hai visto che è successo venerdì sera la situazione non è buona, chiedendogli prima 1000 euro poi 500 e infine l'avrebbe costretto a consegnargli 200 euro salvo reiterare il giorno seguente la richiesta di consegnargli i restanti 300. Il 48enne risulta anche percettore del reddito di cittadinanza, è stato arrestato e condotto in carcere.